Giornata importante per la ricostruzione del cratere del centro Italia. Oggi in cabina di coordinamento sono state approvate numerose ordinanze, tra queste tre riguardano la regione Abruzzo. Una, l'Alta Valle dell'Aterno, che risolve il problema dello sblocco della ricostruzione in presenza di faglie attive e capaci. Sappiamo tutti che da cinque anni la ricostruzione è bloccata perché c'è la necessità di condurre degli approfondimenti conoscitivi sulle faglie attive capaci che insistono sul territorio. Finalmente sono state dettate le regole, l'Abruzzo le richiede ormai a gran voce da due anni, c'è stata un'assemblea pubblica a Capitignano non più tardi due settimane fa, sono stati assunti degli impegni e finalmente oggi si ha l'esito di questi impegni assunti. In primis chiaramente dal Presidente della Regione Marsilio e dal Commissario Legnini. Sono state previste oltretutto delle maggiorazioni contributive per il costo parametrico, quindi anche coloro che hanno subito danni lievi potranno avere un miglioramento sismico del proprio edificio e chi ha subito danni gravi potrà andare fino all'adeguamento sismico con delle maggiorazioni contributive. Quindi insomma la grande attesa comunque ha dato dei risultati in termini di resilienza degli immobili e quindi qualità anche della ricostruzione. La seconda ordinanza dà attuazione alle regole per la ricostruzione nel cosiddetto cratere nevoso, per cui sono stati stanziati l'anno scorso 100 milioni di euro. Oggi finalmente si dettano le regole, di questi 100 milioni 80 sono stati attribuiti alla Regione Abruzzo. Un'ordinanza speciale infine riguarda la provincia di Teramo, che ha nel frattempo terminato la ricognizione di tutti gli immobili strategici del comprensorio teramano. In questa ordinanza c'è di importante la novità che l'USR diventa soggetto attuatore e stazione appaltante. In particolar modo partiremo con la prefettura di Teramo e poi con un palazzo storico monumentale che è proprio nel centro storico che guarda il convitto nazionale che si chiama Regina Margherita. Con questi primi due interventi l'USR si cimenterà anche nella ricostruzione pubblica sperando di accelerare anche questi processi dopo l'accelerazione che comunque abbiamo impresso alla ricostruzione privata. Tant'è che abbiamo chiuso il mese di luglio superando finalmente la Regione Lazio, quindi non siamo più il fanellino di coda dell'Appennino centrale. Chiudiamo con 1075 cantieri complessivamente autorizzati per oltre 176 milioni di euro.